Dopo mesi di attese, ritardi e posticipi, finalmente si vedono le impalcature arrampicarsi sulla parete del Tribunale di Pesaro. Ponteggi che sono stati allestiti dalla ditta romana incaricata di lavori appaltati attraverso un bando ministeriale perché è strettamente statale la competenza sul Palazzo di Giustizia. Impalcature che significano iniziare quei lavori che si attendono da quando il 7 ottobre scorso via San Decenzio fu transennata per i cedimenti di piastrelle e rivestimenti esterni caduti dalla parete laterale del Tribunale. Da lì due mesi di collegamenti stradali interrotti a scapito della viabilità veicolare e di quella dei residenti delle varie via Gian Santi e via Orazio Flacco. A dicembre il Comune intervenì con una messa in sicurezza temporanea per riaprire a senso unico la circolazione sulla strada ma la situazione è rimasta tale da allora ed è destinata ad esserlo per parecchi mesi a venire. Perché parte solo in questo mese di maggio quella opera di ristrutturazione che si auspicava cominciasse in inverno. Un investimento di mezzo milione di euro per mettere in sicurezza un edificio particolarmente ammalorato a dispetto degli appena 16 anni di vita della struttura. Un palazzo dove attualmente sono vietate le aperture di gran parte degli infissi laterali proprio per pericolo crollo. Ora si spera che i lavori segnino la parola fine su un altro dei cantieri lumaca della città.